Ciao, sono Lazzari Sara, sono il numero 37. Oggi ho fatto il mio casting, è andato tutto bene, come mi aspettavo. Sono soddisfatta di quello che ho fatto, la modella è stata soddisfatta, si è sentita un po' una principessa per questo giorno, per come l'ho pettinata, per come l'ho vestita. Mi sono occupata di tutto, ho capelli e trucco, ho cercato di fare il mio meglio nel tempo necessario. La presentazione davanti ai giudici mi è sembrata buona, ho fatto una buona impressione, spero. Comunque la modella era bellissima, un bellissimo lavoro e penso che sono rimasti soddisfatti anche loro. Spero che sia anche quello che cercano. Sì, è un'esperienza che va vissuta, non si può spiegare a parole quello che si prova, perché sembravamo dei pazzi in questi giorni, girare per la nave come dei disperati, a essere sempre a tutti gli appuntamenti che ci davano per informarci, per imparare nuove cose. E quindi è tutto un sosseguissimo di emozioni che non si possono spiegare, però è stata una bella esperienza e la consiglierei.